questo qua è il secondo video, questo andrà bene bene amici, benvenuti tutti voi, abbiamo fatto questo video messaggio per il film Brut di Allegria con gli attori che abbiamo girato oggi a Salerno, nel parco Mercateno è stato bellissimo, bellissimo e abbiamo Antonio Calozzi, eccolo qua, vieni Antonio vieni vicino a me, ciao Antonio, allora, le tue espressioni di questo film comico un bellissimo film, oggi ci siamo divertiti tanto le persone mi venevano vicino, mi domandavano se ero io lo viettatore di avanti un altro, bellissime riprese tutte le persone sono vicino a te, anche i bambini, hanno fatto le foto, mamme, ragazzi allora, è una tua bella soddisfazione, sei stato contento, t'ho visto, sei stato contento poi ci siamo messi un bel caffè, grazie a te che ci hai offerto, sei sempre un signore e allora, è vero, la verità mi ha detto, allora passiamo a Giussi va bene, poi li saluto ciao, buona giornata, poi dopo per i saluti a te, sono Giussi da qua allora Giussi, buonasera, buonasera, la tua prima espressione di questo film, di questo film comico diciamo quindi siamo stati molto bene oggi a girare ci siamo molti divertiti molti divertiti, veramente e poi... e la faccia di questo viettatore perché? pescaramanzia pescaramanzia, no, comunque è stato molto bello sì, ci siamo molto divertiti D'olio è stato veramente ad hoc poi lui... con tutti gli ad hoc che gli hanno fatto esatto, no, è stato perfetto poi lui si valuterà quando verrà girato questo film al cinema quando verrà trasmesso che avrà i suoi applausi, i suoi verdi perché è eccezionale e poi ce la faccio uguale alle sembianze di avanti un altro lui ha fatto il socio va bene Giussi, allora vuoi dire un'altra cosa? passo la parola a mia figlia la nostra palma vitale lei l'abbiamo visto come attrice nei film polizieschi eccetera però stavolta... prima volta film comico prima volta film comico con un film divertente benvenuti all'elegria la tua prima espressione e il tuo prima sogno è stata molto bellissima un'esperienza bellissima mi sono divertita non riuscivo a girare talmente delle risate che ci siamo fatti oggi nonostante l'agliettatore è stato molto bello poi... beh, mi fa piacere poi dobbiamo dire ah, fai un saluto agli amici di Facebook saluto tutte le persone che ci seguono tutti i tuoi ammiratori amici ed amici come dicevo i tuoi amici amici è giusto? ma ho di più amici agli amici ed amici tutti quanti ce li abbiamo è giusto? allora, ti metto solo a te fai i tuoi saluti a Facebook i tuoi amici saluto tutti i miei amici le persone che mi stanno seguendo amici ed amici come ha detto il nostro regista come diceva una persona è un grande e saluto tutti quanti al prossimo film ovviamente ok, ciao bene allora Antonio Ettore Calozzi mi siete qui allora vuoi fare i tuoi saluti Antonio il tuo profilo voglio salutare a tutti i miei amici di Facebook che mi seguono giornalmente e niente vi aspetto nelle sale a più presto a più presto cinematografiche a Salerno col film benvenuti in allegria che sarà un grandissimo successo grazie Antonio poi la cosa più bella la cosa più bella la cosa più bella di questo film è proprio Antonio Calozzi che ha fatto la parte dell'Oiettatore mi devo dirlo perché apparentemente è una barista per il sole però nei panni dell'Oiettatore è un portasfiga però toccando la sua barca poi la vedremo in foto ci siamo veramente e io penso che su questo film Dalle sfortuni dell'Oiettatore diventerà un film di tutto ciò sperando eh ah vi aspettiamo al Cibes tanto che vedete tutti è vero? ah noi ci vediamo a Napoli per la prossima scena o a Bergellino non lo so o a quei castelli va benissimo faremo una bella scena a Napoli così ti ridurai anche tu vi aspetto allora ti ridui il telefonico io faccio un saluto a tutti aspetta un attimo solo saluto i due io saluto tutti quanti tutti i miei amici parenti tutti che mi seguono giornalmente su Facebook alle prossime scene alle prossime scene vi aspetto un saluto ciao da Anthony allora eccoci qua allora Giussi allora Giussi l'unica cosa devi salutare il tuo profilo e i tuoi amici saluto tutti i miei amici di Facebook in particolare tutti nessuno compreso tutti un bacione vi voglio un mondo di bene seguiteci allora eccoli qua e allora scusate scusate e io faccio la parte del copico con questi due semi oli e allora sembrava strano e sembrava strano allora amici che dirvi un bacione da Enzo Sorrentino da tutta la squadra salendo e poi a proposito la cosa più essenziale che noi ci sentiamo a Napoli con Enzo Origiosi con te con altri attori che ci aspettano tutti a Napoli per girare diciamo le ultime finale di questo film un bacione a Enzo Sorrentino amici a tutti i miei amici belli e buoni e tu ciao